sul Berlusconi ha detto una cosa importante, ha fatto anche cose buone, interpretò il Paese, insomma sembra che sia iniziato un gioco di sponda anche nelle parole di Berlusconi di qualche settimana fa rispetto al reddito di cittadinanza. Avete cambiato idea proprio su tutto? In questo caso forse Berlusconi ha cambiato idea, visto che il Parlamento proprio nei giorni in cui Berlusconi dichiarava che il reddito di cittadinanza è una misura importante, durante l'informativa del ministro Orlando Forza Italia i deputati di Forza Italia non erano dello stesso avviso, hanno sempre avversato dobbiamo dire questa misura, quindi in questo caso è stato Berlusconi di aver cambiato idea. In quel caso Conte ha risposto ad una sollecitazione rispetto alle dichiarazioni concilianti di Berlusconi. E' chiaro che siamo in una fase politica in cui dobbiamo nominare, eleggere il nuovo Presidente della Repubblica e ovviamente lo si elegge con la maggiore convergenza possibile, quindi è una fase in cui i partiti devono fare sponda e quindi chiaramente si fa sponda con le carte che ci sono nel mazzo, mi sia consentito questa espressione. E' chiaro, è normale che il Presidente della Repubblica, successore di Mattarella, dovrà avere sicuramente un profilo morale molto alto e questo diciamo già esclude Berlusconi per quanto ci riguarda e poi chiaramente deve riscontrare la convergenza di tutti i grandi elettori e anche quindi degli elettori del centro-destra. Allora Antonello, oggi...